Venerdì 8 marzo 2019, il numero di Me Tomorrow in distribuzione ancora con il nostro logo, con la mimosa dedicata naturalmente a tutte le donne, anche se della festa della donna abbiamo parlato ieri, oggi invece anticipiamo, fa la cosa giusta, appuntamento di cui Me Tomorrow è media partner, un'ampia cover focus con tanti progetti, tra cui quello di 100esperte.it perché non conta solamente l'opinione maschile, e ancora Magrita Fioruzzi ci racconta il caso Mama Chat e come aiutiamo le donne via internet, ma oggi è anche il grande giorno di Luciano Ligabue per l'uscita dell'album Start, un'intervista a tutto campo con Mariella Caruso e ancora la nostra pagina di Milano Weekend con tantissimi appuntamenti, come potete vedere a pagina 2 e per la Milano che verrà una doppia pagina, più frutta QT8, visto che parte il frutteto del gallaratese e la novità per quanto riguarda il futuro del paralido.